Per diventare ancora più bravi, aggiungo io, scaricando l'app Immuni, che serve a tutelare noi, i nostri cari e i cittadini, le cittadine tutte. La ringrazio per averlo sottolineato, rispetto alla privacy, scarichiamo l'app Immuni a tutela di tutti, assolutamente. Anche perché per rintracciare i positivi, insomma, è fondamentale per tenere sotto controllo una pandemia. È fondamentale, mi insomma.